La UIL è la funzione pubblica che ha investimenti sia in termini di risorse economiche che di personale e maggiore organizzazione per quel che riguarda i sistemi informatici della pubblica amministrazione. Se ne ha parlato in un confronto organizzato dal sindacato e che ha visto diversi esponenti politici, esperti informatici intervenire oltre ai lavoratori. L'attacco alla ASL ha messo in luce le fragilità del sistema. Per questo servono investimenti, soprattutto in un settore delicato come quello della sanità, in cui i servizi non possono essere paralizzati. L'iniziativa dell'UFPL ha proprio questo obiettivo, di chiamare l'attenzione delle istituzioni su una necessità di fare investimenti per garantire la sicurezza delle informazioni. Qui all'Aquila c'è stata anche una bella risposta di tutto il personale del settore a dimostrazione dell'alta professionalità che c'è nella pubblica amministrazione italiana, che va valorizzata. E noi chiediamo al nuovo governo di riprendere tutto il programma che noi avevamo sottoscritto nel marzo del 21 con il governo Traichi per una vera e propria riforma complessiva della pubblica amministrazione che parta valorizzando le grandi professionalità che ci sono al proprio interno. L'azienda sanitaria pubblica è la più debole in questo settore, quindi nella pubblica amministrazione, e viene colpita anche e soprattutto per la quantità di dati che mette a disposizione, ma anche per il fatto che comunque la pubblica amministrazione, parlando di sanità, non può fermarsi perché i servizi devono essere comunque elargiti. Pertanto i criminali informatici trovano terreno fertile in questo settore. Per fare qualcosa, secondo me, bisogna, come dicevo prima, bisogna investire in tecnologie personali specializzate. Ha partecipato anche l'ingegnere informatico Carlo Lamattina, esperto in cyber security, proprio per dare degli elementi tecnici in merito agli attacchi dei criminali informatici. Parte tutto da una base che se c'è un attacco forte è normale che bisogna mettersi in protezione. La scalabilità oggi sui sistemi sono abbastanza all'avanguardia, bisogna fare investimenti con efforts importanti per poter essere tutelati al 100%, la tutela al 100% non c'è. Oggi ci sarà anche un intervento del generale Rapetto, che è la massima persona su questo, a livello di sicurezza di cyber security e di sicurezza informatica, ma sicuramente aiuta molto avere una buona infrastruttura. Grazie. 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 Grazie.